Gli obiettivi della legge regionale, che è la legge regionale del riuso, sono sostanzialmente tre. Il primo, noi abbiamo bisogno di rinnovare il patrimonio edilizio. Abbiamo un patrimonio edilizio vetusto, sovente inefficace sotto profilo della riqualificazione energetica, abbiamo edifici che consumano tanto, sovente inadeguato sotto profilo della sicurezza, soprattutto la sicurezza sismica, quindi il rinnovo del patrimonio. Due, abbiamo bisogno di consumare meno suolo e per consumare meno suolo dobbiamo intervenire sull'esistente. Tre, dobbiamo fare rigenerazione urbana. La rigenerazione urbana è quello che ci consente di rinnovare il patrimonio, farlo con la comunità pensando alla bellezza. La riqualificazione urbana non è solo un'operazione edilizia, è un'operazione sociale, economica e culturale. Vivere in un luogo bello ci fa bene anche fisicamente, non solo psicologicamente. Un bambino che vive in un luogo bello, sia essa la casa, sia essa la scuola, impara di più, ha una capacità di apprendimento superiore. Non è solo una questione psicologica, è di fatto un fattore fisico che aumenta le nostre capacità di lavoro, di apprendimento, di qualità della vita.